Ciao, sono Andrea, un frattore delle cliniche Donitu e oggi volevo spiegarvi l'importanza della radiografia endorale. Perché si fanno le radiografie endorale? Queste radiografie che si fanno alla poltrona ci permettono di diagnosticare le lesioni cariose soprattutto nei settori posteriori. Si fanno soprattutto in quella zona lì perché i denti posteriori essendo molto grossi e molto spessi non ci permettono clinicamente di avere un'idea del tipo di lesione che ci può essere sotto questo dento. Nel prossimo video andremo a mostrarvi come si fanno le radiografie endorale nella poltrona. Ciao!